Passato alla versione Scratch Desktop, vedete che è identica alla versione online, come dicevo prima manca solo qui in alto il fatto di accedere alla community. Vediamo in questo video un altro elemento del nostro ambiente che è lo stage. Lo stage è lo scenario dove si muovono i vari personaggi, personaggi che chiamiamo sprite, personaggi o oggetti, ma poi ne avremo modo di parlare. Questi oggetti, personaggi si muovono all'interno dello stage. Lo stage ha un'unità di misura in passi, si chiamano così, in realtà corrispondono sostanzialmente questi passi a un punto di un piano cartesiano. Piano cartesiano diviso in 4 quadranti. Ha una dimensione, questo piano, di 480 passi in larghezza e 360 in altezza. Divisi in questo modo abbiamo il punto 00x0y0 dove abbiamo in questo momento il gatto al centro. Poi abbiamo valori positivi spostandoci verso destra sull'asse x, quindi va da 0 a 240, verso sinistra da 0 a meno 240, così verso l'altro da 0 a 180 e andando verso il basso da 0 a meno 180. Se guardiamo i blocchi del movimento troviamo infatti la parola passi. Il movimento dei vari oggetti, dei vari sprite, vengono proprio misurati in passi, punti all'interno di questo piano cartesiano. Possiamo far muovere i nostri sprite all'interno dello stage o definendo attraverso il movimento dei passi, quindi da una posizione relativa a far muovere il nostro sprite, piuttosto che possiamo anche definire in maniera assoluta dove deve andare, quindi andando a dare le, come vedete c'è nei blocchi di movimento, abbiamo vai a x, y e possiamo dare una posizione assoluta a cui andare, sia velocemente sia anche stabilendo un tempo di movimento. Per quanto riguarda lo stage, lo scenario, ne abbiamo uno solo per lavoro, per file di scratch, però possiamo avere più sfondi. Vi faccio notare che in questo momento ho selezionato, è azzurro, lo sprite 1, il gatto, e qui le schede sono codice, costumi e suoni. Se io clicco qui in questa zona dove c'è scritto stage, si evidenzia, adesso si è evidenziato in azzurro la parte dello stage, e vedete che qui in alto è comparso, codice ancora, ma sfondi. Per quanto riguarda codice, anche lo stage può essere programmato, con blocchi minori, perché se guardiamo ad esempio i blocchi del movimento chiaramente non ci sono, i blocchi dell'aspetto sono in quantità minore rispetto agli sprite. Il suo utilizzo è uguale, identico, trasciniamo il blocco e agganciamo gli altri blocchi. Naturalmente in questo caso sto programmando lo stage e non lo sprite, tanto è vero che se io riclicco sullo sprite, vedete che i blocchi scompaiono. Questa è una cosa importante da sottolineare, ogni sprite e lo stage ha i propri blocchi, che chiamiamo script. Quindi facciamo attenzione se clicchiamo su uno o sull'altro, non preoccuparci, non è che magari abbiamo cancellato qualcosa, semplicemente non abbiamo selezionato l'elemento su cui stavamo lavorando, piuttosto che facciamo attenzione anche a selezionare l'elemento giusto su cui vogliamo lavorare. Non importa, eventualmente c'è sempre la possibilità di trascinare i blocchi, poi vi farò vedere con gli sprite e duplicare il lavoro, quindi non necessariamente perdiamo il lavoro se abbiamo programmato uno sprite per sbaglio, o piuttosto che in fase di lavoro vedremo che abbiamo necessità di spostare dei blocchi da uno sprite all'altro. Come vi dicevo abbiamo un solo stage ma abbiamo più sfondi. Lo sfondo predefinito, clicchiamo sulla scheda sfondi così iniziamo a vedere anche questa parte che poi è comuna ai costumi, vedremo. Abbiamo la possibilità, qui lo riporto all'originale, stavo facendo un lavoro prima. In maniera predefinita troverete che il Scratch chiamerà i vari sfondi, sfondo 1, sfondo 2, sfondo 3, a meno che non li peschiamo dalla libreria come vedremo tra poco. Ogni sfondo può essere rinominato, come avete visto prima l'avevo chiamato quadrato, lo chiamo per rettangolo, ok, rettangolo verde, lo chiamiamo così. Questo nome si utilizza proprio per richiamare tramite i blocchi poi il determinato sfondo. Uno sfondo può essere richiamato o direttamente con il nome, oppure possono essere messi in successione, quindi partire da uno sfondo e poi passare al sfondo seguente. All'interno di quest'area noi possiamo utilizzare questo editor grafico minimale che ci permette però ad esempio di disegnare, ad esempio disegno un rettangolo di colore verde con un contorno nero, posso aumentare e diminuire la dimensione del contorno e poi inizio a disegnare. Ecco qui il nostro rettangolo. Questo rettangolo può essere cancellato con un semplice cance della tastiera piuttosto che clicchiamo sulla freccia per riselezionare, vedete che selezionando compare il pulsante cancella, compare anche il copia e incolla e anche questi pulsanti per ribaltare. Ad esempio se noi riduciamo la dimensione, lo sposto in mezzo, vedete che quando seleziono posso aumentare e allargare le dimensioni con le solite maniglie che si utilizzano nei programmi di grafica, poi c'è questa maniglia che mi permette di rovesciare la figura, vedete che, anzi facciamo così, abbiamo un angolo in alto da questa parte, se io clicco sul ribalta, il riflettino orizzontale, eccolo qua, l'angolo che era di qua, si è spostato di qui. Stessa cosa, posso ribaltare in maniera capovolgere, in verticale, e naturalmente riporto una posizione più o meno simile a prima, e posso cancellare. Vedete che man mano che lavoro, dietro compare questo stage, e compare lo sfondo nello stage. Qui in alto posso annullare o ripristinare, posso raggruppare o separare più oggetti, portare in avanti o indietro, perché chiaramente stiamo parlando di un piccolo programma di grafica, cambiamo il colore, mettiamolo rosso, così, rosso, perfetto, e disegniamo questo oggetto, in questo modo, chiaramente è posizionato sopra, io lo posso portarlo indietro, perché comunque lavoriamo su dei livelli, piuttosto che potrei selezionare con la freccia, seleziono tutto, e a questo punto posso raggruppare i due oggetti, e poi li posso separare. Posso portare avanti e indietro, in primo piano, in secondo piano, e così via. Questo editor grafico, posso lavorare con i punti, posso tracciare delle linee con il pennello, cancellare, mettere del colore di riempimento, testo, cerchio quadrato, abbiamo visto, linee rette, anche qui abbiamo i soliti pulsanti di zoom, possiamo, allora in maniera predefinita, scratch, l'editor di scratch, lavora con una grafica vettoriale, quindi con forme primitive geometriche, appunto, piuttosto che potremmo convertirlo in bitmap, quindi non più tramite linee ben definite, ma tramite punti, classico della grafica bitmap, chiaramente perdendo un po' in questo caso in definizione. Io vi consiglio di rimanere, quando utilizzate scratch, siccome non stiamo facendo grafica ad alto livello, ma semplicemente vogliamo creare dei personaggi, insomma, o degli oggetti, o degli sfondi per il nostro lavoro, va benissimo anche la grafica vettoriale, perderemo in definizione con la grafica bitmap di questo tipo, piuttosto che, dopo vedremo, cliccando su questo pulsante, possiamo andare a importare dei lavori magari fatti con altri programmi di grafica. Se clicchiamo su questo pulsante, in maniera predefinita cliccando sul pulsante, piuttosto che sulla lente in gradimento, accediamo alla libreria di tutti gli sfondi che abbiamo a disposizione all'interno di scratch. Come vi dicevo prima, in maniera predefinita è su tutti, quindi vedo l'elenco alfabetico di tutti gli sfondi, piuttosto che possiamo filtrare in base alle categorie degli sfondi. Ad esempio, scelgo questo, e vedete che mi aggiunge questo bellissimo sfondo, che in questo caso è fatto in grafica bitmap. Vedete che infatti sono cambiati i pulsanti e al posto di bitmap che avevamo prima ho converti in vettoriale. Se abbiamo dei disegni o delle immagini fatte con dei programmi, non con questi pochi elementi, ma insomma fatti con Photoshop, Gimp o altri software, oppure troviamo delle immagini, chiaramente anche bitmap però ben definite, li possiamo tranquillamente importare. E per importarle devo andare su questo menu, non devo cliccare sopra, ma ci passo sopra con il mouse, si apre questo menu e clicco su Importa sfondo dal computer, piuttosto che posso usare anche la webcam e quindi fotografare quello che c'è di fronte alla webcam. Con il pulsante invece questo disegna un nuovo costume, sostanzialmente, scusate, c'è un errore di traduzione, in realtà sarebbe disegno a un nuovo sfondo, ma va bene lo stesso. vedete che mi ripropone la schermata che avevamo prima, con in questo caso sfondo 1, e lo spazio per poter lavorare e disegnare. completiamo la parte che riguarda lo stage, poi parleremo di sprite, per quanto riguarda i suoni. scheda suoni, anche qui ho un piccolo editor, dove posso ascoltare il suono, piuttosto che accelerare, rallentare, mettere un effetto eco, e così via, aumentare, diminuire il volume, oppure anche invertire proprio l'audio. anche qui ho un pulsante, posso rinominare, dare il, quindi anche i suoni, in questo caso, vengono richiamati tramite i blocchi con il nome, potuto che posso selezionare una traccia, e poi tagliare, se clicco su taglia, compaiono queste guide, che poi io posso utilizzare, per cliccare, vedete, trascino, in questo modo, a questo punto vi dico salva, e il suono viene cambiato, viene proposto solo la parte che io ho selezionato, piuttosto che posso cliccare su annulla, e ritorna il suono di prima. Anche qui, con questo pulsante, posso cliccare, ed accedere ad una libreria di suoni, ci sono tutta una serie di libreria di suoni, e anche qui divisi per categoria, oppure per tutti, posso anche cercare, per nome, l'eventuale suono, se lo conosco. Anche qui posso registrare, quindi utilizzare il microfono per registrare, l'eventuale suono, piuttosto che importarlo, direttamente, all'interno del mio computer, se ho dei suoni, o scaricati o registrati, disponibili sul mio computer. Torno un attimo indietro, per quanto riguarda gli sfondi, e parlo di stage, nella parte degli stage, vedete che qui mi dice che ho tre sfondi, seleziono uno sfondo, e compare questo, vedete che qui, in anteprima, mi fa vedere quale sfondo è selezionato, cliccando su questo pulsante, io posso accedere direttamente, alla stessa funzione che avevo prima, vedete, quella che ho qui, me la ritrovo anche qui, a destra, per quanto riguarda gli sfondi, infatti se io clicco, mi riapre di nuovo la libreria, vediamo, ok, mi riapre la libreria, degli sfondi, e mi aggiunge, mi ha aggiunto, vedete, lo sfondo su cui ho selezionato. Grazie.